Era da qualche settimana che non parlavamo della BCE e quindi eccolo qua un video di aggiornamento sulle politiche monetarie della Banca Centrale Europea, sullo stato dell'inflazione in Italia e in Europa e su un paio di aggiornamenti su Christine Lagarde perché c'è molto da dire ma iniziamo per gradi. A fine ottobre la BCE ha alzato i tassi di interesse di 75 punti base e si aspetta nuovi rialti. Questo perché l'inflazione continua a salire, siamo all'11.9% su base annua, aumento del 12,7% per il carrello della spesa, record dal 1983. Le analogie con la superinflazione che c'è stata tra la fine degli anni 70, metà degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 sono sempre di più concrete e quindi appunto siamo arrivati al 10.7% di inflazione nell'area euro e in Italia 11 abbondante. Quali saranno le politiche monetarie della Fed nei prossimi mesi e soprattutto quali sono le parole di Christine Lagarde che mi hanno particolarmente indispettito e sono sicuro indispettiranno anche te. Lo approfondiamo in questo video. Ciao a tutti, sono Cristina Filippo e da martedì 25 novembre uscirà il nuovo podcast di piano finanziario Finanza al Femminile. Ti aspettiamo su Spotify alle ore 9. Ormai non si parla d'altro che di inflazione, infatti anche a scuola quando commetti un errore di matematica 2 più 2 uguale 14, questa bambina giustamente dice non è sbagliato, è semplicemente aggiustato per l'inflazione. Iniziamo con un po' di meme, un po' di immagini divertenti per così sciogliere un po' la tensione perché vedrai che purtroppo ci sono un paio di frasi e dichiarazioni di Christine Lagarde che la tensione la rialzeranno. Ma prima facciamo un passo indietro, cerchiamo di capire comunque il contesto in cui si stanno muovendo le varie banche centrali che è un contesto generalizzato di aumento dei tassi di interesse a livello globale. Infatti da questo grafico che chiaramente puoi scaricare gratuitamente, ti spiego come alla fine del video, questo è un grafico di Bank of America che ci fa vedere quanti sono stati gli aumenti dei tassi di interesse di tutte le banche centrali mondiali praticamente. Bene, quest'anno 2022 ci sono stati 243 azioni di aumento dei tassi di interesse più di uno per ogni giorno di contrattazioni trading day. L'inflazione però non è tutto uguale a livello di Stati Uniti e di Europa, ci concentriamo per ora solo su queste due macro aree geografiche perché le ragioni sono diverse e anche i comportamenti sono diversi, questo l'abbiamo già notato nei mesi scorsi, gli Stati Uniti sono stati più avanti rispetto all'inflazione europea di sempre un paio di mesi e sembra negli Stati Uniti che si sia già toccato un picco, l'abbiamo già commentato in questo video, mentre in Europa non abbiamo ancora visto la fine, proprio sembra il grafico di una crypto nel 2021, to the moon, ridiamo per non piangere. Il punto è che l'inflazione in Europa è molto diversa dall'inflazione negli Stati Uniti, cioè le cause che spingono all'inflazione, infatti come vediamo l'area rossa è l'energia, l'impatto dell'energia che sta avendo sull'inflazione perché ad impattare sull'inflazione c'è l'aumento dei prezzi di varie cose all'interno del paniere, quindi cibo, energia, trasporti eccetera e l'energia in Europa è responsabile di quasi la metà dell'inflazione che c'è stata, che stiamo vivendo, mentre negli Stati Uniti è il 33%. I restanti responsabili dell'inflazione sono la domanda, cioè quindi il desiderio che hanno i consumatori di consumare e se questa è alta chiaramente a pari fornitura, a pari offerta salgono i prezzi e l'offerta supply, quindi anche qui a pari domanda di persone ci sono 100 persone che vogliono comprare questo telefono, bene se l'offerta da 100, quindi tutti si portano a casa un telefono, scende a 80, chiaramente i prezzi salgono perché ci saranno 20 persone che non si prenderanno il telefono, quindi a definire l'inflazione ci sono vari aspetti appunto quindi come l'aumento della domanda o difficoltà nell'erogazione del servizio, nella consegna dei beni, quindi dal lato dell'offerta e questo l'abbiamo già commentato in altri video, c'è comunque un grosso problema di supply, cioè nel senso che la catena di fornitura che è stata stravolta nel 2020 causa emergenza sanitaria e non è ancora ritornata a pieno regime, ci sono ancora tempi d'attesa molto elevati per certi materiali e di conseguenza i prezzi salgono. Se segui da un po' il lavoro mio e quello del team di piano finanziario, che è appunto la società che si occupa di educazione finanziaria, o segui il lavoro di Vendaus che è la mia società immobiliare, di questo tema ne abbiamo già parlato in varie occasioni, se penso alle ristrutturazioni immobiliari che stiamo portando avanti, un cappotto per dire, fare il cappotto ad una piccola casetta di due unità immobiliari, due o tre unità, due anni fa, tre anni fa aveva un costo che era stimabile sui 30.000 euro, adesso abbiamo un cantiere che magari avrai visto nei vlog, il cui cappotto per più o meno la stessa metratura di quello di due anni fa è costato il doppio, 70.000 euro, questo perché era difficile trovare i ponteggi, il materiale non si trovava, il pretto era doppiato, chiaramente se si riduce la domanda perché abbiamo un rallentamento economico, quindi meno persone magari vogliono fare ristrutturazioni come le nostre o decidono di consumare meno in qualunque altro settore economico, bene, si riduce la domanda, quindi c'è una minore spinta all'aumento dei prezzi dal punto di vista della domanda, allo stesso tempo se la fornitura rimane invariata, il materiale che è nei magazzini dei vari produttori in giro per il mondo, bene, quello deve essere liquidato e quindi ci sarà meno stress dal punto di vista dell'offerta e quindi verosimilmente l'inflazione potrebbe tornare entro valutazioni più ragionevoli, però questo è ancora qualcosa che dovremmo verificare perché sappiamo che ci stiamo avvicinando ad una recessione e le probabilità sono elevatissime, però è ancora difficile stimarne l'entità, può essere una contrazione dell'economia ragionevole di breve periodo o qualcosa di più prolungato, ad oggi questo è ancora qualcosa di difficile da stimare. Ok, chiarito questo, adesso torniamo a Christine Lagarde e alla BCE, era già tre minuti che non mettevo un meme in questo video, quindi ho trovato questo che è meraviglioso, Titanic Debt, ok? Vediamo Jerome Powell e Christine Lagarde in questa scena epica di Titanic e qui siamo a dei livelli di nerdismo finanziario inarrivabili, ma che a me fanno molto ridere e come al solito se ti piacciono clicca mi piace e iscriviti al canale. Perché fa ridere? Perché al di là del collage che vabbè chiaramente è fatto in modo molto rozzo e brutto come deve essere un meme, fa ridere perché è vero, cioè è un'immagine incredibilmente corretta. Abbiamo questa coppia di banchieri centrali che sta cercando di gestire un debito enorme che è salito in modo esponenziale negli ultimi due anni, è salito grazie ad un aumento della massa monetaria senza precedenti, l'abbiamo commentato sia per il dollaro che per l'euro. Adesso devono affrontare un'inflazione fuori controllo e l'unica cosa che ci auguriamo è che l'epilogo non sia quello del Titanic, che è appunto l'affondamento della nave. Su questo canale spero avrai notato che cerchiamo di essere il più razionali e oggettivi possibili, ok? Raramente trovi delle opinioni, cosa faranno i mercati tra 6-12 mesi, cosa dirà la Lagarde o Jerome Powell? Cerchiamo di analizzare le notizie per capire bene qual è il contesto economico finanziario, allo stesso tempo a chi ignora completamente questi concetti e pensa che in economia basti stampare moneta per risolvere qualunque problema, spieghiamo anche certi meccanismi economici finanziari. Cerchiamo il più possibile, cerco il più possibile di essere super partes, perché mi rendo anche conto che molte persone seguono questi contenuti e mi sento in qualche modo responsabile delle informazioni che divulghiamo, ok? Quindi cercando di divulgare informazioni, provate, piegando i meccanismi, evitando il più possibile il giudizio personale. Perché questo spiegone? Perché oggi, alla luce di un paio di cose che ho letto e dichiarate appunto da Christine Lagarde, faccio un po' fatica a non mettere il mio giudizio personale. Cioè, questo non vuol dire che non l'abbia già detto in varie occasioni che nel 2021 le banche centrali hanno sbagliato completamente l'analisi del contesto economico finanziario, hanno ripetuto per sei, nove mesi che l'inflazione era transitoria, non hanno fatto un aumento di tassi di interesse progressivo, che sarebbe stato quel bellissimo soft landing di cui abbiamo parlato soprattutto in primavera, e ci ritroviamo in questa situazione in cui si corre ai ripari. Quattro aumenti da 75 punti base per la Fed su cinque aumenti da 75 punti base negli ultimi trent'anni, quindi un evento storico senza precedenti, con impatti su gli investimenti, perché con un aumento di tassi di interesse così devastante, azioni e obbligazioni mutui e quindi immobiliare vengono tutti riprezzati a questa velocità. Quindi non sono isente da critiche. Allo stesso tempo dico anche che non penso sia un mestiere facile, perché comunque l'economia è una bestia strana, ci sono infinite variabili da analizzare. Insomma, dobbiamo capire che, e lo vedrai nei contenuti che ti proporò adesso, che comunque il ruolo del banchiere centrale è un ruolo politico, ok? C'è un politico alla guida di una banca centrale, non c'è un tecnico che come me ha un input ed ha un output, ok? Cioè come ragione un imprenditore, potremmo dire. C'è un politico, deve mediare, deve considerare mille scenari e quindi le risposte sono quelle che sono, sono quelle della politica. La prima notizia che mi ha fatto andare la pressione fuori scala è che la Lagarde ha recentemente annunciato che questa inflazione è arrivata, non si sa da dove, came from nowhere e descrive Putin come un uomo terrificante. Quindi all'intervistatore la Lagarde dice che è stata questa combinazione di un veloce recupero post-covid e una crisi energetica causata dal signor Putin. Discutibile questa affermazione? O meglio è un'iper-semplificazione? Bene, queste sono le cause che hanno messo l'Europa in questa crisi. È arrivata proprio da non sappiamo dove inaspettata, come si faccia a definire inaspettata qualcosa che comunque in parte dipende dal veloce recupero post-pandemia, io non lo capisco. Quindi non mi piace in questo articolo il modo di comunicare di Cristi Lagarde, che ripeto è politichese, sono supercazzo le prematurate. Perché figuriamoci se esiste un politico che dice ho sbagliato, ho commesso un errore, guarda mi dimetto. No, un politico gioca a fare il politico e quindi dice frasi di circostanza. Quando le viene chiesto che cosa pensa dell'impatto che l'inflazione abbia sui cittadini, dice lo sappiamo, l'inflazione è terribile per tutti noi, ma lo è in particolar modo per quelli che hanno redditi bassi, perché sono i primi che sono impattati molto di più di quanto non siano impattati quelli che hanno redditi più elevati. E poi scarica la responsabilità sul conflitto Russia-Ucraina, che sicuramente ha avuto un impatto, ma ha avuto un impatto per il 40%, come ti ho mostrato. L'aumento dell'inflazione è di responsabilità dell'aumento dei prezzi dell'energia in Europa per circa il 40% e tutto il restante 60% dovuto da effetti normali, economici, domanda offerta, quello non l'avete visto. Quindi non è vero che è venuta fuori dal nulla, non l'hai visto, punto. Non deve aver visto neanche, Cristi Lagarde, l'aumento della massa di denaro in circolazione, siamo passati da 5 trilioni di euro in circolazione a 9, questo è tutto l'incremento, praticamente quasi un raddoppio di massa monetaria in circolazione negli ultimi due anni. Attenzione, fermi tutti, contestualizziamo, perché lo so che adesso nei commenti si scatenerà l'inferno. In questo video stiamo commentando la comunicazione e le mezze verità dette. Però non possiamo dimenticarci i fatti, e i fatti sono che durante la pandemia sono state messe in atto molte azioni a livello europeo per sostenere i redditi, per non far collassare il mercato del lavoro. E questo è stato fatto sia a livello centrale e poi distribuito a livello di singole nazioni. E il PNRR è figlio di quelle azioni. Come sono state finanziate parte di queste iniziative a sostegno dell'economia durante la crisi pandemica? A debito. Quindi il debito è stato messo dai singoli stati per la prima volta nella storia di sempre dell'economia europea, della comunità europea, anche da parte della comunità stessa europea. Cioè la comunità europea ha emesso debito, non c'è un precedente a questa cosa. Quindi l'economia è stata sorretta sia dai singoli stati con iniziative nazionali sia a livello europeo. Chiaramente parte di questo debito doveva essere comprato da qualcuno o lo compravano i mercati o lo comprava la BCE e per comprarlo ha stampato denaro. Quindi l'aumento dell'inflazione non è stato visto, l'abbiamo già capito. Le azioni che sono state prese a sostegno dell'economia hanno fatto sì che comunque stiamo parlando di recessione per il 2023 e non per il 2021, perché il 2021 c'è stato un forte rimbalto per le azioni che sono state prese correttamente da parte delle banche centrali e dai governi. Potremmo discutere il fatto che forse sono stati dati troppi stimoli, ma potremmo anche discutere il fatto che comunque era un intervento ad una crisi economica causata da una crisi sanitaria con cui era difficile relazionarsi, quindi è sempre facile commentare il lavoro che fanno gli altri e dire hai sbagliato. Allo stesso tempo io non vorrei essere a prendere quelle decisioni perché comunque il rischio di commettere errori è altissimo, soprattutto in un contesto economico che è fortemente influenzato e in qualche modo imprevedibile perché c'è una crisi sanitaria. Quindi è la comunicazione che mi indispone, perché bastava dire abbiamo stampato troppo, abbiamo anche contribuito alla formazione di bolle qua e là nel mercato, non siamo stati in grado di vedere tempestivamente l'aumento dei prezzi, in più c'è stato un conflitto russo-ucraina, questo oggettivamente imprevedibile, risultato non è che è venuta da zero, insomma abbiamo una parte di errori, una parte di sfiga. Ecco questo mi sarebbe piaciuto, un po' di errore, un po' di sfiga l'avrei accettata come risposta, nonché è venuta dal niente. Adesso ci troviamo in una situazione in cui appunto i tassi di interesse sono aumentati in modo verticale, anche in Europa siamo circa al 2% e abbiamo capito che il tragitto sarà ancora lungo. Com'è che l'abbiamo capito? Un po' perché sai se l'inflazione rimane all'11 e i tassi sono al 2, solitamente a livello storico, ne abbiamo già parlato in altri video, quando l'inflazione supera il 5%, di solito l'inflazione è tornata sotto valori più bassi quando i tassi di interesse sono andati sopra al livello dell'inflazione, quindi potenzialmente, a mio parere, devo fare una stima, chiacchiere da bar, ok? Potremmo aspettarci i tassi di interesse al 5-6% magari per un anno. Shock temporaneo, un po' come ricevere un ice bucket challenge, dicendo, ah cosa sta succedendo? Riprendiamo il controllo delle nostre finanze e dopo si ritorna a un'inflazione più ragionevole. Che ci sia molto da fare ancora per contenere l'inflazione in Europa è abbastanza chiaro. Quello che non mi piace è sempre il tono che utilizza Christine Lagarde, guardiamoci insieme questa clip di un'intervista che è stata fatta qualche settimana fa sulla televisione di un'intervista. La città di un'intervista di un'intervista di un'intervista di un'intervista di un'intervista e il il investimento che è in questo momento. E qui è? E questo mi piace a tutti i nostri spielli e mi chiedere la domanda. Questo è avuto 8 trillioni di euro. E non ciò che ci ha detto di un'intervista di cripto, non ci vediamo un gigante bubble here on your balance sheet with the euro and isn't this graph very nerve-wracking well i can tell you that there is zero crypto assets in the balance sheet of the ecb that i know point number one well i just don't want any ambiguity about it yeah but you have to think in terms of counterfactual if we had not decided on march 18th when we put together the pandemic emergency program and then subsequently increase the volume of commitment that we made to the european union economies we would be in a devastated situation so i don't regret any of that move that we took on that day which was four months into my job to significantly increase the size of the balance sheet because that's all we had otherwise the economy would have collapsed and it would have been even accelerated by a financial crisis you had to do it it was the covid crisis you say that's what we needed to do but how do you get it it will come it will come in due course yeah how in due course it will come yeah but do you sleep at night when you see this of course i have to sleep at night and i have to worry every morning yeah okay ecco diciamo che quando sento queste cose sento il tono di christine lagarde vedo l'espressività facciale sono io che non dormo la notte te l'assicuro christine soprattutto perché la frase scenderà 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 fidati scenderà sì no ma cosa farai cioè fammi capire cosa farei in modo cioè lo so cosa farai aumenterai tassi di interesse ma qualcosa di un po più concreto che non fidati perché se mi devo fidare è la mia fiducia è forse mal riposta no visto che queste sono le proiezioni fatte dallo staff della banca centrale europea in termini di evoluzione dell'inflazione tutte le volte che si saliva la proiezione era si tornerà a scendere si tornerà a scendere sia quando eravamo al 4 per cento si si torniamo al 2 sia quando eravamo al 6 all 8 e anche al 9 e invece siamo al 17 cosa c'è da fare lo sappiamo continuare ad aumentare i tassi di interesse è l'unico modo un po come fece volker negli anni 80 e ne abbiamo già parlato in varie occasioni e dare una raffreddata violenta all'inflazione è l'unico scenario possibile l'hard landing e siamo già sulla buona strada perché a livello europeo si dice già che stiamo entrando in recessione questo inverno lo dice la comunità europea che si aspetta una crescita economica dell'eurozona in contrazione la recessione dovrebbe essere molto probabile appunto questo inverno in un contesto in cui l'inflazione continua ad essere più prolungato di quanto inizialmente ci si aspettasse oggi mi dispiace va così sono polemico perché quando leggo dei commenti così oggettivamente si fa fatica ad essere super partes razionali eccetera e mi torna in mente un bellissimo meme che ti facciamo vedere sei mesi fa cinque mesi fa in cui faceva vedere appunto come nel 2021 la fed ma potremmo dire a questo punto la bce diceva guarda il quantitative easing cioè lo stimolo monetario non porterà l'inflazione no no secondo trimestre del 21 diceva l'inflazione c'è ma è transitorio terzo trimestre 2021 ok inflazione è alta ok ma abbiamo raggiunto un picco quarto trimestre 21 ok forse l'inflazione non è transitoria ma il mercato del lavoro e la crescita degli stipendi è forte cioè la c'è crescita economica primo trimestre del 2022 dobbiamo aumentare aggressivamente i tassi di interesse per contenere l'inflazione ma non ti preoccupare l'economia è in buona salute secondo trimestre del 2022 sì le proiezioni dell'economia sono scarse ma non siamo in recessione secondo trimestre del 2022 ok siamo in recessione ma non perderai la casa terzo trimestre del 2022 ok potresti perdere la casa ma non farai la fame e questa era la vecchia versione del meme che ha visto chi segue questo canale da mesi e se non l'hai visto iscriviti al canale così non ti perderai la prossima evoluzione ma c'è già il sequel primo trimestre del 2023 ok potresti morire di fame ma andrà in paradiso insomma che dire era un meme anticipatorio a parte per l'ultimo pezzo che è degenerato però il concetto è questo ok non ci beccano non ci beccano sono politicanti quindi sappiamo che usano questo acceleratore o freno che sono i tassi di interesse un po così cioè sentimento se vedono le cose tutta manetta se non le vedono continuano ad andare a tutta manetta un po come i presenti gli acceleratori delle navi ok tutta manetta giù tutto via poi frenano e va un po a caso ok cioè ci provano ma queste sono le regole del gioco comunque qualcuno che deve prendere delle decisioni c'è e nel prendere una decisione c'è la possibilità di commettere degli errori verrebbe da chiedersi ma perché per nel dubbio non tenere non lo so un 3 per cento di tasso fisso sempre se la butto lì proposta di piano finanziario dimmi se la firmi un 3 per cento fisso sempre non li toccate più ok facciamo che non toccate più i tassi di interesse li teniamo a 3 per cento fisso per sempre ok chiaramente sono ironico polemico e un po disilluso dalle politiche monetarie il tema è che dobbiamo convivere con questo contesto quindi come al solito come spieghiamo anche nei percorsi che facciamo qui in ufficio e accettiamo la realtà per quella che è che è imperfetta e noi comunque dobbiamo capire come gestirla come altre cose che non sono perfette nella vita impariamo a relazionarci a continuare a fare quello che dobbiamo fare a raggiungere i nostri obiettivi di vita e obiettivi finanziari in un contesto che non è perfetto che proprio perché ha alla guida delle persone che o per incompetenza o per errori fatti in buona fede e noi continuiamo ad investire quindi possiamo comunque far crescere il nostro capitale usando i mercati finanziari però dobbiamo essere consapevoli che comunque il valore dei nostri beni dei nostri asset dei nostri investimenti dipende anche dalle politiche monetarie che a volte sono prese da persone che commettono errori ma il tema è che questo ha un impatto sulle valutazioni dei beni dei nostri investimenti in altre parole non su quello che abbiamo comprato cioè in altre parole se noi compriamo un etf ricordiamoci un etf azionario ad esempio che stiamo comprando delle azioni di aziende quotate sul mercato che produrranno degli utili che distribuiranno dei dividendi quella è economia reale ok quindi noi stiamo comprando qualcosa che c'è esiste è tangibile produce utili è profittevole che ha valore il cui però prezzo dipende comunque dalle politiche monetarie di breve periodo nel medio e lungo periodo questi effetti vanno a svanire ma nel breve medio l'impatto è determinante quindi cosa me ne faccio io di queste informazioni penso che sia sempre questa la domanda da porsi perché comunque ti proponiamo questi contenuti per farti capire bene cosa sta succedendo ma l'obiettivo non è di mettersi lì a speculare su cosa dirà Christine Lagarde al prossimo comunicato stampa ma di aiutarti a gestire in modo più efficace il tuo denaro cosa me ne faccio di queste informazioni bene sicuramente dobbiamo sapere che davanti a noi ci saranno periodi potenzialmente duri sia dal punto di vista del dell'investitore perché questo shock dei tassi di interesse porterà a veloci riprezzamenti di tutti i principali di tutte le principali classi di investimento e allo stesso tempo essere più cauti tenersi più margine di sicurezza perché potrebbero esserci non so cassa integrazione potrebbe esserci meno fatturato quindi se non sei nella condizione di investire perché magari sei esposto ad altre fonti di rischio magari sul lavoro appunto non investire questa è la logica di base allo stesso tempo però se sei solido sul lavoro se sai che potenzialmente avrai comunque un reddito e puoi comunque continuare a ragionare nel futuro questo è un contesto fortemente incerto dal quale nasceranno molte opportunità le recessioni ci sono sempre state sempre ci saranno gli orrori dei banchieri centrali ci sono sempre stati e sempre ci saranno stiamo commentando questi ma non pensare che i banchieri centrali di 15 anni fa fossero meglio erano comunque dei politici messi in quel ruolo quindi comunque al di là di ragionare sull'economia mondiale tu ragiona sulla tua economia sul tuo piano finanziario se te lo sei perso vai assolutamente a rivedere la replica del webinar a prova di recessione trovi il link gratuitamente alla pagina pianofinanziario.it slash recessione a questo punto come al solito puoi scaricare tutte le slide dei link che ti ho presentato qui in alto alla tua destra qui in basso ti suggerisco di guardare un video in cui approfondiamo perché i banchieri centrali in questo momento hanno l'interesse di ridurre l'effetto patrimonio delle famiglie e questo è chiamato wealth effetto trovi il video qui in basso sulla destra se questo video ti ha dato valore clicca mi piace iscriviti al canale e ci vediamo in un altro video ciao